Ciao ragazzi, come avevo detto stavo aspettando un altro set e mi è arrivato, appena arrivato ed è la stambeca strillante. L'avevo ordinato tempo fa su un sito multiplayer, era in offerta per chi lo ordinava in anteprima, però ci ha messo un po' ad arrivare, è arrivato prima gli altri che l'hanno comprato normalmente e ho risparmiato una quindicina d'euro. Sono contento che l'hanno rifatto perché un set che avevano già fatto tempo fa ormai introvabile o costava l'ira di Dio. La stambeca strillante, diciamo la scena del terzo film dove Lupin si trasforma in Lupo Mannaro, dove c'è Sirius Black che è evaso da Azkaban, insomma i vari personaggi. Forse l'unico che manca è Severus Piton, però c'è tutto, c'è Alcane, c'è Lupo Mannaro, c'è Lupin in versione umana, c'è Peter Minus, è anche la versione del topo, insomma il platano picchiatore, c'è tutto come potete vedere, la luna coperta dalle nuvole e poi quando si scopre che gira e si trasforma in Lupo Mannaro, il povero Lupin, vedete i trabocchetti e insomma è carina, ecco una parte della casa ovvio, non è tutta però è bello, bello bello bello, ci tenevo tantissimo e sapevo che l'avrebbero rifatto infatti eccolo qua. Poi lo aggiungo ai due casi che ho già di Oxmed, cioè ai tre manici di scopa e ai dolci di Mielania. Spero che poi facciano anche qualcos'altro tipo la testa di Porco, sarebbe bello se lo facessero ma credo che prima o poi lo faranno e poi spero che rifanno della prova del torneo Tremaghi, diciamo la prova quella del Lago Scuro dove ci sono le sirene, che anche quello set che hanno fatto tanto tempo fa è impossibile trovarlo ma se si trova costa un botto di soldi, sicuramente lo rifaranno, vedo che stanno un po' rifacendo tutti questi set vecchi e niente ragazzi, ora lo costruisco e vi faccio vedere come viene, a fra poco ciao ciao, bene ragazzi eccoci qua, l'ho appena finito ed è bellissimo, veramente bello, carino, molto carino, adesso bellissimo, forse è un po' esagerato, però è carino. Dopo alla fine ve lo metto vicino al resto del villaggio di Hogsmeade, perché tanto la stambeca strillante si trova nel villaggio di Hogsmeade, un po' isolato dal resto del paese però è lì che si trova. Allora, cosa partiamo? Dei personaggi, partiamo da il classico Harry con le due facettine, non mi soffermo perché tanto i personaggi, no lui dopo, Hermione, io ho messo le facettine un po' più serie perché sappiamo che nel film questa diciamo scena sono molto seri perché quando li incontrano Sirius Black e credono che sia un assassino, Ron con il suo topo, crosta, lui che non mi ricordo come si chiama, ah sì scusato ho un vuoto di memoria, Peter Minus, quindi abbiamo Peter Minus sia in versione crosta che in versione umana e Sirius Black, anche in versione canina. Dopodiché abbiamo credo un po' anche il personaggio, il pezzo forte, Lupin, qua l'ho messo con gli occhi quasi da Lupo Mannaro, prima di trasformarsi definitivamente Lupo Mannaro, se no sono anche gli occhi normali, come potete vedere con le sue cicatrici, però a me piaccia molto di più con questi occhi qua. E scusate ragazzi ma purtroppo ci sono quelle giornate che vi cade di tutto, no? Ecco oggi è una giornata di quelle, forse non era il momento di fare il video. Vabbè come dicevo qui abbiamo Lupi in versione da uomo quando si sta trasformando il Lupo Mannaro che vede la luna piena e qui come potete vedere c'è il trabocchetto che gira le nuvole che vanno via e si vede la luna piena. Questa luna piena si era lasciata sotto la luce come tanti altri matoncini, poi con il buio diventa fosforescente. E qui abbiamo Lupo Mannaro, bella la cosa che hanno fatto, non il capuccio, la testa da cambiare, ma ha fatto proprio il personaggio del Lupo Mannaro, con le sue gambe un po' strane come nel film, molto molto bello. Come vedete qua c'è trabocchetto, Lupi, escono fuori le, quando vi ha le nuvole esce fuori la luna e si trasforma in Lupo Mannaro. Qua abbiamo Platano Picchiatore e anche questo stesso ve lo metto vicino a quell'altro di un altro set per farvi vedere la differenza. Questo è un po' storto come Platano Picchiatore, comunque gira anche questo. Qua c'è questa specie di passaggio che è quello che porta dentro la stambeca strillante. E ora passiamo alla stambeca strillante. Una recensione. La famosa recensione dove tutti abbiamo invidiato Ron con Ermione che gli prende la manina. o gliela ascolta, adesso non mi ricordo bene. Comunque, insomma, sono lì tutti i pipipipipi romanticoni e poi arriva Draco con il suo team a disturbarli. Ecco, questo è di fronte, diciamo, l'entrata e la stambeca strillante. Come vedete è un po' storta, è fatta bene, è fatta bene, è fatta così, però rimane fissa, non si muove. Qui abbiamo un passaggio segreto, sicuramente quello vogliono riprodurre, passaggio segreto che dal Platano Picchiatore sbucca in casa. e qui abbiamo l'interno. Come vedete non è che c'è un granché, insomma, c'è un lettino, un pianoforte, cammino, un po' come nel film, ecco. E qui uguale, qui dentro c'è un baule con dentro anche quelle cose non le capiscono, una cioccorana e una coppa o qualcosa del genere. Però una volta che lo attaccate questo, aspettate, se lo sgancio, lo faccio vedere. Una volta che lo mettete lì non si vede più. Vedete? aspettate che cioccorana e una coppa. Cosa mi rappresenta metterlo così? Non lo so. Cioè, più che altro perché potevano anche non metterlo, tanto non si vede più. Vabbè, comunque è questo. Ora l'ho messo male. Ok. No, va così. E niente, cos'altro dire? È molto carino, molto, 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 molto. Ripeto, non è bellissimo, però è molto carino. Poi vicino alle altre case di Oswald, secondo me sta molto bene. Ora volevo misurarvi se trovo il metro. Allora, farvi vedere. Non ve lo peso perché è leggerissimo. Parliamo di 25 centimetri la punta d'altezza. 14 di larghezza. E la profondità, se ne apriamo il punto più largo, parliamo di 11 centimetri. È un set molto piccolino, si fa presto a costruirlo. È molto carino, io lo consiglio. Io ripeto, l'ho pagato, ho dovuto aspettare un pochino, ma l'ho pagato sui 75 euro. Li vale? Sì. Di più, secondo me, no. 100, 110, no, non li vale. So che costa sui 99 euro, però secondo me, se aspettate un attimo, lo trovate a 70, 75 euro. Forse anche a meno. Basta un attimo di paziente, sapete che le offerte le fanno di continuo. Anche su Amazon, quindi. E beh, sì, i personaggi ci sono, tenete presente, ci sono, parlo solo degli omini, due, quattro, sette omini, più gli animali, poi c'è il platano picchiattore, insomma, è abbastanza un set completo, ecco. Va bene, ragazzi, adesso ve lo metto vicino sia all'altro platano picchiattore, se ci riesco perché c'è la macchina sopra, sia alle altre case e vi faccio vedere come sta. Beh, questi sono i due platano picchiattori, questa è dell'altro set, non ricordo che il numero di 7 è, ma nelle mie video recensioni c'è, è un po' più grosso, ma forse è più che altro è per la posizione, non è che è più grosso, è che quell'altro è inclinato di 45 gradi, questo è dritto, quindi sembra un po' più alto, ma poi alla fine siamo lì, sono molto simili, molto. Tu entrambi girano, una cosa non lo faccio io, se no la macchina cade e vai in mille pezzi, mi tocca andare a cercare, e anzi vabbè, piano piano se riesco ve lo faccio vedere. Anche questo è il passaggio segreto. E lì è un po' più difficile, ho provato a mettere il Cermione, sì ci sta, l'ha riuscita ad attaccare, qui se volete attaccarla come nel film, quando gira insieme a Harry, però io preferisco mettere, adesso vediamo come sistemarla, non lo so. Vabbè, adesso vi faccio vedere le altre case di August Smith. Ecco qua ragazzi, ho messo solo le case, tanto i personaggi non hanno importanza in questo momento, per farvi vedere come stanno vicino. Nonostante anche se la stambega strillante non fosse veramente così vicino, però uno può mettere anche un po' girata, so, stan bene ecco, stan bene. Spero che facciano altre casette del villaggio, perché non è grosso come i diagonali, per i diagonali è più un quartiere, e questo è un paese, però è bello, sarebbe bello fare un paese tutto con queste casette, ecco uno volendo può comprare chi ha i soldi da spendere, altre casette, altri set di questi, modificarli e farci un vero villaggio. Onestamente io se escono altri set, se riesco li prendo. Andare a comprare altre cose, modificarle, no. Però secondo me sta molto 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 bene. Bello, proprio bello. Completa un pochettino il set del paese, sta bene, ecco. Prima con le due casette da sole erano carine, ma benissimo non stavano. Con questo già comincia a allargarsi, comincia a star bene. Mi piace molto. Va bene ragazzi, niente, il video finisce qua, perché non ho tante cose da dirvi. Così posso dire, le finestre non si aprono. No, non c'ho nient'altro da dire. Perché è così. Quello che dovevo dire ve l'ho detto. Se avete delle domande fatemene pure, se posso vi rispondo, soprattutto quando posso, perché tra lavoro e tutto non è con molto tempo. Però insomma, cerco di accontentarvi tutti se avete delle domande da farmi. Fra poco uscirà un altro video di un oggetto, di un set Lego di Harry Potter, non dico quale, che cercavo tanto, sono riuscito a trovarlo, a veramente un bel prezzo, e l'ho preso. Quindi se potete seguitemi e se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like. Ciao e alla prossima.